Veneranda Lai ha 78 anni, è sposata con un vigile del fuoco che è in pensione, che ha 80 anni, che si chiama come? Remo Scalas. Siete entrambi residenti a Quartu. Lei nei fatti è disperata perché? Sono disperata perché dovrei riportarlo a casa e a casa naturalmente non è gestibile. Che cosa ha suo marito? Spieghiamo. Mio marito ha un Alzheimer molto grave, con una maculopatia cerebrale, non deambula perché non cammina, non si spiega, non dice quello, deve essere assistito 24 ore su 24. Dove si trova lui? Lui si trova nella Gersia a Selagius ed è lì però mi hanno telefonato l'assistente sociale che purtroppo il comune deve darsi da fare per potermi aiutare a pagare la retta che io non posso pagare. Quanta è la retta da dover pagare, la retta mensile? Non lo so quanto sia, comunque è molto alta. Molto alta che mio marito vive da una pensione con delle spese che abbiamo, di medicina. Lei ha una pensione signora? Io ho una pensione minima, minima perché sto pagando questo mutuo di 630 euro. Della pensione non mi rimane niente. Lei è venuta a chiedere un aiuto al comune di Quarto? Io sono venuta a chiedere un aiuto perché ho fatto alcune domande che non mi hanno dato nessuna risposta. L'unica cosa, l'ultima volta che io sono venuta, prima che chiudessero, mi hanno detto di fare questa domanda per un aiuto di una retta da darmi per poter aiutare la struttura da pagare, non ho avuto nessuna risposta. Quindi io adesso sto insistendo ancora finché il comune si dia da fare per potermi aiutare con mio marito di lasciarlo lì e di pagare loro la retta perché mio marito non abbiamo niente in noi da poter, abbiamo solo bollette da pagare, basta. Suo marito fino a quando può restare nella tua struttura sanitaria? Mio marito sarebbe dovuto, ha finito mio marito. Infamia ieri mi hanno telefonato l'assente sociale proprio per avvertirmi di andare al comune per fare qualcosa con gli assenti sociali, solo che gli assenti sociali è chiuso. Sono andata al CAFO per farmi questa domanda per potermi dare questi soldi, per poter aiutarmi. Nello stesso tempo presentato però era tutto chiuso perché erano in ferie e quindi io mi ritrovo così. Io mio marito non lo posso riportare a casa perché non ce la faccio, non ce la faccio perché mio marito ha una persona che ha bisogno di almeno di quattro persone per poterlo gestire. Chi ha persone ammalate così mi può capire. Ricordiamo che malattia ha suo marito? Mio marito ha un Alzheimer molto grave, aggressivo, una maculopatia cerebrale e tanti altri, un tumore alla prosa, tante altre cose che non deambula perché ha avuto uno sfondamento dalla caviglia e quindi è quello che l'ha reso diciamo con questa malattia perché ha avuto un intervento molto lungo e non so altro che sapete. Voglio l'aiuto, voglio l'aiuto perché io non ce la faccio più. Mi sono costretta a portare il mio marito qui e io mi butto dal bastione perché è l'unica risorsa, ve lo giuro. Ovviamente no, questi sono dei gesti estremi. Sì, proviamo a lanciare un aiuto signora e un appello, lasciamo anche il suo contatto telefonico per i nostri lettori. Allora, 338 22 82 497.